Nicola Montalbini prima di gara 1 dolorante per l'infortunio di ieri nelle prove libere dove ha avuto un piccolo incidente di guida Nicola sei una roccia, ospedale, tornato ieri sera, qualifiche, pole position tu ci sei sempre, ma Nicola nei 25 minuti di gara partirà a full gas per tentare di farli tutti? io parto per fare bene, nel senso che comunque so che questo dolore con la spalla mi può limitare e mi ha limitato anche sulle qualifiche chiaramente vedremo un po' in gara, io cercherò di tenere duro finché non ho tanto dolore e poi gestirò fino alla fine quindi speriamo in bocca al lupo per i primi giri abbiamo visto che hai nel polso qualche secondo in più rispetto agli altri e ti auguriamo nei primi giri di riuscire a portare a casa quel gap che ti possa consentire di gestirlo per gli ultimi giri dove sicuramente la botta e il dolore fisico diventeranno molto più pressanti Nicola sei un grande campione, sei un toro, ti abbiamo visto perfetto sulla casina in bocca al lupo, grande Nicola per gara 1 in Cups 1 grazie, grazie